Cagliari e la Cina molto più vicine. C'è un grosso progetto per far sposare il capoluogo sardo con una città di 16 milioni di abitanti, Xi'an, che si trova appunto nella Cina non tanto lontana ma vicina. Ispina Wang è presidentessa dell'associazione Cina più vicina. Cosa sta bollendo in pentola esattamente? Perché questo gemellaggio? Tante cose. Guarda, fondamentalmente già in questa semplice dicitura che hai usato tu, la Cina è più vicina e che tra l'altro il nome della mia associazione racchiude un po' tutto. Perché già noi come associazione ma anche coinvolgendo tanti altri attori, gli imprenditori, il Consorzio Cagliari Centro Storico, la Confesercenti e anche attori istituzionali abbiamo proprio pensato che il modo migliore per far avvicinare due culture e anche due economie sia sempre quello di partire dalla cultura, dalla conoscenza reciproca. E la Sardegna, come io dico ormai da sempre, forse qualcuno non ne potrà neanche più, ha tantissime similitudini con la Cina, in particolare con quella parte centrale. Quali queste similitudini? Quali sono? Allora, dall'enogastronomia all'artigianato, alle usanze, le usanze per esempio dei matrimoni e dei funerali, sembrerebbe strano dirlo, invece sì. Chi mi segue su Facebook o comunque anche ha seguito le mie interviste precedenti, ha visto che ogni tanto ho posto delle fotografie che ho proprio scattato in Cina durante le festività tradizionali e non, del cibo, non solo i ravioli, i jauz, che somigliano come ormai tutti sanno ai nostri culurgiones, ma anche i mash, che sono proprio i malloreddos, poi una sorta di filindeu, chiaramente con proporzioni molto più grandi, o la gallinella sarda, che per noi appunto è la gallinella sarda, mentre invece viene fatta molto molto simile proprio nella città di Sian. Da un lato c'è l'imprenditoria, la voglia comunque di fare rete con i maggiori attori, insomma, che si occupano di queste realtà qui. Dall'altro poi c'è una comunità cinese, quella cagliaritana, 1.6 barra 2.000 persone appunto, stando larghi. Sì, sì. Ancora troppo auto isolati? Ma io dico sempre sì che sono un po' troppo discreti a volte, però questo succede perché non c'è una vera e propria terza, ovviamente non parliamo di quarta generazione, stanno cominciando ad esserci, ad essere ben presenti e ben integrati sul territorio le seconde generazioni. Quindi non c'è più quella timidezza, non saper parlare la lingua, anche cioè non sentirsi accettati. Quando si comunica, quando si può comunicare usando la lingua locale, che per noi ha avuto l'italiano e forse anche il sardo, chiaramente cadono anche quelle barriere. Ovviamente noi dobbiamo fare un passo nei loro confronti, ma anche loro lo devono fare. Questo matrimonio si è sancito decisamente quest'anno con l'organizzazione insieme del Capodanno Cinese, che è stato il primo passo di questo gemellaggio culturale, enogastronomico, dell'artigianato e delle imprese e che adesso sta prendendo una forma ben più importante e ben più istituzionale, diciamo così. Capodanno avviene una volta all'anno, lo dice il nome stesso. Ci sono però altri 364 giorni che diventano 365 quando l'anno è bisestile, all'interno dei quali bisogna, si dovrebbe meglio creare sempre più comunicazione fra i cagliaritani e i cinesi. Uno dei mantra è i cinesi sono venuti qua, fanno i loro affari e ci rubano il lavoro. Allora, io direi che è esattamente il contrario. Tra l'altro oggi sono contentissima perché cade una festa cinese, proprio il Duanfuzia, e quindi facciamo gli auguri a tutti quanti, i cinesi e tutti i sardi italiani che la conoscono e la vogliono festeggiare. Allora, certamente, ripeto, loro hanno il difetto, tra virgolette, di restare un po' in disparte, ma più che altro per una forma di discrezione. Quanto al fatto del rubare il lavoro, ricorderei a tutti che anzi i cinesi che hanno aperto qua, dal negozio più piccolo al ristorante più grande, e assumono invece molto personale sia sardo, locale e anche tanti altri stranieri, tante altre etnie, dai chirghisi ai kazaki ai filippini. Quindi, semmai direi che creano opportunità di lavoro. E poi non dimentichiamo che spesso noi italiani e, ancora di più, noi sardi, andando in altri luoghi, andando semplicemente anche all'università, i sardi tendono a stare sempre fra di loro, ad ascoltare musica sarda, a mangiare sempre cibo sardo. Quindi, a volte, ricordiamoci che magari proprio per discrezione, per timidezza, stiamo sempre fra di noi, aspettando di integrarci con la comunità locale.